Sono tre gli indagati per le aggressioni verbali e fisiche a sfondo razziale commesse tra il 3 e il 4 settembre scorsi contro un gruppo di richiedenti asilo, ospiti in una struttura di accoglienza di Bettola. Il pubblico ministero Emilio Pisante ha chiuso le indagini portate avanti dai carabinieri, formalizzando le accuse non solo nei confronti di un 28enne di Bettola già agli arresti domiciliari, ma anche per altri due bettolesi, un 39enne e un 53enne, denunciati a piede libero con l'accusa di aver partecipato al raid incendiario, quando con una tanica di benzina venne appiccato il fuoco all'ingresso dell'abitazione dove vivevano i profughi, subito dopo trasferiti per ragioni di sicurezza. Gli stessi migranti della costa d'Avorio accorsero a spegnere le fiamme e bloccarono l'incendio prima che si propagasse. Il liquido infiammabile diede fuoco a uno zerbino e a una sedia di plastica. Sono tuttora visibili il muro della facciata annerito e la porta di legno rovinata. Le indagini dei carabinieri sono scaturite dalla doppia denuncia del gruppo Umana Solidarietà che gestisce il centro di accoglienza di Bettola. Gli accertamenti si sono conclusi nei giorni scorsi con l'avviso di chiusura delle indagini preliminari. La posizione più grave rimane quella del 28enne, tuttora sottoposta agli arresti domiciliari. Sono sei le accuse che gli vengono contestate non solo per l'episodio dell'incendio. Si tratta di stalking, lesioni, porto di oggetti atti all'offesa, danneggiamento, violazione di domicilio e tentato incendio. Il tutto aggravato dall'odio raziale.